Sono arrivate a Bari a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza le prime tre salme dei componenti dell'equipaggio del rimorchiatore, affondato ieri sera a 50 miglia dalla costa barese in acque internazionali. Dagli ultimi aggiornamenti forniti dalla Capitaneria di Porto di Bari emerge che gli altri due corpi dei componenti dell'equipaggio sono stati individuati ma sono ancora in fase di recupero. Le prime tre salme, una volta sbarcate a Bari, saranno trasferite nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico dove si stanno recando i familiari per il riconoscimento e dove nei prossimi giorni saranno eseguite le autopsie. Il triste bilancio definitivo quindi è di cinque morti e un superstite, il comandante, un 63enne siciliano, è l'unico sopravvissuto ed è attualmente ricoverato nell'ospedale di Venere di Carbonara. Gli altri cinque componenti dell'equipaggio che erano a bordo sono due pugliesi di Bari e Molfetta, due marchigiani e un tunisino. Dopo l'affondamento un altro rimorchiatore che era in zona ha recuperato il pontone alla deriva ed è in viaggio verso le coste pugliesi. Gli 11 a bordo sono in buone condizioni e sono, oltre al comandante superstite, gli unici testimoni oculari del naufragio. Nel frattempo le organizzazioni sindacali dei trasporti, Filt CGL, Filt Cisle, Wilt Trasporti Marche, CGL Cisle e Wilt Ancona hanno espresso solidarietà alle famiglie delle vittime e stanno programmando iniziative di mobilitazione a partire dallo sciopero di domani di quattro ore dei rimorchiatori in attesa di capire come si sono svolti i fatti.